Salve, sono Massimiliano di MacMobili, siamo qui nel nostro showroom di Firenze e vi invito a visitare la mostra insieme a me. Questo è il nostro reparto cucine, collaboriamo con una delle più importanti aziende a livello italiano che è Veneta Cucine e altresì lavoriamo con aziende artigianali che ci permettono di lavorare su un prodotto di nicchia. Siamo nel nostro reparto dedicato alla zona giorno, collaboriamo con importanti aziende sia di design moderno che classico. Collaboriamo con aziende artigianali che ci permettono di realizzare tutti i nostri progetti e riescono a risolvere qualsiasi soluzione adatta al vostro arredamento. La camera da letto è una delle stanze più importanti sicuramente della casa, ottime aziende, soluzioni su misura e letti molto romantici.